Grazie a tutti E come da secoli, nel tardo pomeriggio del venerdì dopo Pasqua, si apre, anzi si riapre, il santuario della Madonna del Carmelo, detta delle Gallie, al canto di centinaia di tamorrari e migliaia di persone pervenute da ogni dono per assistere ad un momento di grande fede e spettacolarità. I tosellanti già dal primo pomeriggio si sono riuniti nei vari punti della città per procedere poi, verso le ore 17, verso il santuario all'interno del quale i compratelli mettevano a puntino le ultime cose. Per offrire ai fedeli una visione quanto mai splendente della chiesa e della effigie della Madonna del Carmelo, detta delle Gallie. Alle ore 18, minuto più, minuto meno, ecco che si dà la voce. Il responsabile del primo tosello lancia, in un silenzio di nacchere, castagnetti e tannore, la voce che dà inizio alla festa. La voce diventa canto, canto devozionale di un popolo intero che si è portato ai piedi della Vergine. Il portale lentamente, dopo i rintocchi, si apre, i colombi volano nel cielo e la musica ed i canti diventano preghiere, allorché poi si è davanti alla Vergine, dove dopo un momento di preghiera, di riflessione, si dà il via alla festa che è la festa del popolo, è la festa della tradizione. Grazie a tutti!